Dopo il sequestro degli edifici scolastici a Locri, i due capi di istituto, la preside dell'istituto comprensivo Liceo Classico Ivo Liveti e il Liceo Artistico Panetta Giovanna Otelitano e quello della sezione staccata dell'Ipsia di Siderno Gaetano Pedullà, al momento non sono in grado di affermare quando potranno riprendere le lezioni. Sembra, allo stato difficile immaginare, che gli studenti possano rientrare a scuola e riprendere le attività curriculari prima delle vacanze pasquali. Ieri mattina, accompagnato dai carabinieri della compagnia di Locri, presso i due istituti si è presentato anche il custode giudiziario, l'ingegnere Giuseppe Barreca, nominato dal GIP Nicola Marino, anche con il compito di effettuare un'attenta verifica sulla sicurezza degli immobili. Soltanto dopo che sarà accertato lo stato di sicurezza infrastrutturale e sismica dei due plessi, gli studenti potrebbero rientrare a scuola. Oggi l'ingegnere dovrebbe tornare a Locri per informare i due capi di istituto, sui tempi tecnici necessari ed effettuare le verifiche finalizzate, assaggiare la sicurezza infrastrutturale dei due immobili sotto sequestro. Inutile nascondere che una lunga chiusura degli edifici potrebbe pregiudicare agli studenti l'intero anno scolastico. Il preside dell'Ipsi, Gaetano Pedullà, ha esternato qualche perplessità per quello che ha detto potrebbe configurare una sorta di interruzioni di pubblico servizio. Anche per questo il dirigente scolastico, constatata l'impossibilità di una rapida ripartenza delle attività didattiche, ha informato la sovrintendenza scolastica regionale della situazione che si va prefigurando per poter ricevere qualche supporto. L'auspicio del preside Pedullà è che la magistratura espleti con una certa rapidità tutti gli iter tecnici che deve espletare e consenta agli studenti di chiudere l'anno scolastico in Santa Pace. La scuola e gli studenti in particolare sono vittime di una situazione pregressa che si va trascinando da anni e che nessuno ha pensato di affrontare e risolvere definitivamente.